incontriamo Giorgio Cremaschi alla conclusione della sua fatica che uscirà tra qualche settimana un libro sul sindacato, sui lavoratori. Giorgio ha spesso anticipato alcune delle dinamiche politiche in questo paese degli ultimi anni il tuo ultimo libro si chiamava Il regime dei padroni e parlava di Marchionne Sì, non c'era ancora Renzi ma si poteva in qualche modo intuire che sarebbe arrivato Del resto il regime di Marchionne forse con Renzi ha preso forma, ha dato l'amicizia che lega i due personaggi Io partirei da qui chiedendoti una riflessione a tutto tondo a partire da questo viaggio americano di Renzi qui torna però si trova a confrontarsi con quelli che lui chiama i poteri forti un attacco sembra quasi concentrico, il Corriere della Sera, i Vescovi e poi lo scontro con il sindacato Cosa sta succedendo a questo nuovo protagonista della politica italiana? Intanto diciamo la verità, questa è una delle tante finzioni, i poteri forti veri stanno tutti con Renzi C'è qualche piccolo sfrido, qualche piccola contraddizione per cui il direttore licenziando senza articolo 18 ma credo che non abbia bisogno a quei livelli del Corriere della Sera che se sta per andare gli dà un calcio negli stinchi i Vescovi fanno un colpo al cerchio e un colpo alla botte però tolto questo e tolti i brontolamenti sindacali ma credo che ci torneremo su questo che secondo me non sono vere rotture perché questo tipo di sindacato così come oggi, parlo di CGLC, non è in grado di rompere con il governo Renzi poi facciamo l'elenco di chi sta con Renzi Marchionne, Napolitano, Berlusconi, la Merkel, Obama, la Finanza, la Banca Morgan, le banche italiane, la Confindustria dove sono i poteri forti che sono contro Renzi? tutti i poteri veri, l'Unione Europea, il sistema finanziario, Renzi ha tutto con sé certo probabilmente come sempre avviene, come è avvenuto anche all'epoca del fascismo quando i poteri forti si schierano con il nuovo arrivato perdono qualche pezzettino, qualche persona io ricordo che il direttore della stampa di allora, Filippo Frassati parlo degli anni 20 del secolo scorso, era un avversario di Mussolini ma fu tolto di mezzo e la stampa e tutti i grandi giornali si schierarono alla fine con il regime se guardiamo la televisione, i telegiornali è Tele Renzi sì però anche uno come della Valle che lo aveva sostenuto nelle primarie e persino D'Alema in qualche modo ha affondato il colpo in questo momento sembra che insomma abbia prestato parecchi calli in questo paese no, cercano di salvare se stessi, ripeto il regime è quello di Renzi i poteri forti stanno con Renzi ci sono pezzi che non ci stanno per tante ragioni alcuni nobili, forse altri meno e che però sono i perdenti i perdenti del regime il regime è quello di Renzi ed è un regime terribile quello che si prepara perché tra l'altro è coperto a tutti i livelli dalla prima copertura istituzionale quella del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e quindi è un regime che sostanzialmente ha uno scopo realizzare in Italia e questo è il suo vero significato reazionario nel senso tecnico del termine cioè realizzare in Italia quello che la svolta degli anni Ottanta Craxi e tutto il resto non è ancora riuscito a realizzare cioè non a caso ho sentito ieri sera Renzi citare Blair ora se uno va in giro per il mondo o solo anche in Gran Bretagna pensa che Blair sia il passato per Renzi Blair è il futuro e questo dà l'idea della regressione del nostro paese un paese che cerca 30 anni dopo di realizzare il programma liberista, populista di Craxi e della svolta degli anni Ottanta quindi un paese che ha gli orologi fermati anzi portati indietro in una brutale restaurazione sentire un Presidente del Consiglio ieri sera in televisione dire che in Italia non si investe perché non si può licenziare nemmeno Berlusconi e Brunetta parlavano così eppure lui è il segretario di quello che teoricamente dovrebbe essere il partito di centrosinistra un partito nel quale è evidente che è in corso una mutazione genetica persino più grave di quella che è il psilicrato si dice che Renzi abbia scelto di portare lo scontro sull'articolo 18 per portare un attacco violento alla sua minoranza interna ma anche per chiudere i conti con il sindacato con la CGL in particolare con Susanna Camusso e Landini che proprio ieri Renzi citava come il vecchio No, Landini ha fatto un complimento va detto per inciso che Landini ha preso una cantonata pazzesca aprendo qualche mese fa con Renzi e credo che sarebbe onestà che lui riconoscesse servirebbe a tutti che riconoscesse che si è sbagliato su Renzi certe cose contano nel dibattito non si può dire come si continua a dire scendiamo in piazza il Governo deve cambiare questo Governo è un avversario ha un progetto ripeto, un progetto reazionario cioè un progetto di costruire in Italia quella società di mercato che secondo me è un'utopia reazionaria ma che si vuole costruire come ultimo tentativo di realizzare il programma europeo eccetera Renzi è quello che è sostenuto di più dai poteri forti perché dietro di Renzi c'è Draghi la Banca Centrale Europea e il Fiscal Compat e tutto che lui non ha mai minimamente messo in discussione quindi torniamo al punto Renzi è un tentativo secondo me è la seconda volta che si prova un tentativo così in Europa è il tentativo di fare tornare indietro fino in fondo le lancette della storia sociale cioè cancellare totalmente tutti i diritti costruire una società di mercato dove c'è ovviamente un po' di carità un po' di assistenza ma una società di mercato cancellando tutto ciò che è pubblico tutto ciò che è collettivo tutto ciò che è sociale Ancora una volta l'articolo 18 diventa un po' l'emblema di questo attacco No, l'emblema l'articolo 18 è stato smontato già da Monti è bene ricordarlo con il consenso di CGL e CISWIL perché la prima vera botta all'articolo 18 gliel'ha data il governo Monti con la Fornero il quale ha per la prima volta introdotto la facoltà per il giudice di poter optare nel caso di un licenziamento di optare cioè tra la reintegra vera e propria cioè ti ho licenziato ingiustamente quindi ti devo riassumere perché il giudice ha deciso che tu sei licenziato ingiustamente e invece hai fatto ti ho licenziato ingiustamente però ti do solo un po' di soldi questo c'è già oggi è già stato introdotto dal governo Monti anche se ovviamente lascia un margine al giudice quindi il giudice può decidere in un senso o nell'altro c'è un caso recentissimo a Taranto all'ilva di Taranto un delegato della sicurezza del sindacato USB è stato licenziato perché aveva bloccato dei lavori giustamente aveva bloccato dei lavori pericolosi l'azienda ha detto no tu hai fatto una cosa che non potevi fare l'ha licenziato il giudice ha condannato l'azienda ha detto il licenziamento era ingiusto ma non ha reintegrato il lavoratore perché? perché diceva non era chiaro l'intento discriminatorio quindi quello che voglio dire è che l'operazione grave Monti l'ha già fatta nel senso che ha invertito perché questo attacco ha invertito l'onere della prova poi ci arriviamo ha invertito l'onere della prova cioè nel senso che prima era come dovrebbe essere era il datore di lavoro che doveva dimostrare che il licenziamento era giusto adesso è è il lavoratore che deve dimostrare che il licenziamento è discriminatorio e quindi è chiaro che è invertito trovo che un industriale che licenzi oggi uno dicendogli ti licenzio perché sei comunista ti licenzio perché sei omosessuale ti licenzio perché sei musulmano ti licenzio perché sei donna merita di chiudere la fabbrica perché è talmente coglione scusiamo il francesismo da non capire che basta che usi dei termini tecnici e dei te perché la possibilità c'è ora è evidente che questo ha lasciato come ha detto ieri sera Renzi in mano ai giudici la possibilità di optare cioè il giudice può decidere di reintegrarti o può decidere di non reintegrarti lui vuole cancellare questo vuole togliere nella più pura tradizione craxiana berlusconiana di cui Renzi è l'ultimo erede e togliere qualsiasi potere ai giudici e ci sono altre cose che fa nella stessa direzione ad esempio se ne parla meno se ne parla meno perché diciamo purtroppo è tutto concentrato sull'articolo 18 ma ci sono misure che vengono prese o annunciate nel Giobset la riduzione delle mansioni il demansionamento il controllo a distanza con le telecamere lo spionaggio a me colpisce che siano i parlamentari che se gli fanno un'intercettazione gridano si rivolgono alla corte dell'ONU e poi questi votano tranquillamente Renzi in testa che bisogna spiare con le telecamere il lavoratore sul suo posto di lavoro oppure il fatto che è ancora più grave che si possa fare la conciliazione tra l'azienda e il lavoratore licenziato senza l'intervento del giudice o del sindacato cioè faccio un esempio un lavoratore precario che viene licenziato in tronco oggi c'è un obbligo di conciliazione diciamo giudiziale perché è evidente che uno può essere sottoposto domani vale semplicemente questa è la firma di un avvocato qualsiasi e il lavoratore ha avuto e a quel punto il lavoratore non può più ricorrere dopo in tribunale quindi la cosa che lui vuole Renzi è dire basta con i giudici basta con la costituzione basta con i diritti c'è il mercato venite a investire qua in Italia poi noi saremo buoni perché veniamo dalla sinistra eccetera questa è la sostanza di fronte a questo progetto sembra che per una volta c'è una reazione nel senso che la FIOM prima ha convocato uno sciopero e poi è confluito questo sciopero questa manifestazione in una più generale mobilitazione della CGL che a prescindere da tutto sembra diventare una mobilitazione contro il governo Renzi perché Renzi in qualche modo incita a questo scontro con il sindacato che forse anche il sindacato non vuole tu come la vedi? sì io penso che Renzi abbia i suoi suggeritori i suoi analisti di come si dice analisti di mercato di mercato della politica gli hanno detto attacca il sindacato perché il sindacato è spurtanato in Italia ed è vero CGL Ciswil oggi in Italia sono messi alla pari dei partiti CGL e Ciswil hanno perso l'ultima grande occasione di avere un ruolo positivo in questo paese ce l'hanno comunque voglio dire ma un ruolo nella grande politica del paese quando hanno subito senza praticamente reagire la peggiore contro riforma delle pensioni d'Europa quella che ha portato la gente a lavorare a 67 70 anni quando hanno subito la fornero e non hanno scioperato allora tra l'altro se avessero fatto una lotta vera sarebbe esploso il paese solo che sarebbe caduto il governo Monti e questo quindi hanno un peccato originale CGL e Ciswil da cui non ne escono semplicemente dicendo adesso noi lottiamo io non credo che la lotta fatta dalla CGL sia una lotta vera non lo è è importante che ci sia figuriamoci ma non credo che sia una lotta vera la lotta è quella del 24 dello sciopero generale organizzato dal sindacato di base o dello sciopero sociale di novembre dove è il punto di lotta? beh ma appunto esatto questa è la situazione cioè una situazione se uno guarda il mese di ottobre il 10 ottobre c'è lo sciopero della scuola formato da precari sindacati di base il 16 ottobre c'è lo sciopero della logistica che è un sciopero sacrosanto con sciopero nazionale cioè per capirci quello dei facchini poi c'è il 24 ottobre c'è lo sciopero dell'USB poi in mezzo ci sono gli scioperi della FIOM poi il 25 novembre c'è il 25 ottobre c'è la manifestazione della CGL il 14 novembre c'è lo sciopero di tutti gli altri sindacati di base con i movimenti i centri sociali e io onestamente penso che questo sia importantissimo che ci siano queste lotte non voglio dire niente però è un aspetto della sconfitta è un aspetto della sconfitta perché non si riesce a costruire di fronte al più grave attacco che c'è proprio perché è voluto io sono convinto come ho detto prima l'articolo 18 non è un problema perché è già stato smontato ma quello che vuole fare Renzi è di più non solo togliere di mezzo l'articolo 18 ma togliere di mezzo l'idea che si possa ancora agire come lui dice con il vecchio cioè con la contrattazione collettiva con i servizi sociali siamo solo all'inizio questa cosa serve a smantellare serve a costruire un regime dentro questo regime il passaggio successivo sarà quello di tutto il mondo dei servizi pubblici io mi aspetto così come lui oggi usa colpisce come si dice i diritti dei lavoratori dando la colpa ai sindacati che non fanno il loro mestiere in questo c'è la totale malafede cioè una malafede proprio userei un termine demonia con il senso del Vangelo cioè nel senso che c'è la disonestà totale perché ho sentito ancora ieri sera Renzi dice l'articolo 18 i sindacati non ce l'hanno quindi uno dice bene colpisci la casta in questo caso la casta sindacale metti l'articolo 18 no siccome i sindacati che lo individua come casta non hanno l'articolo 18 lui lo toglie a quei lavoratori che ancora ce l'hanno capite che lui è perfettamente la malafede della casta che si presenta come nuovo per fare il peggio del vecchio e quindi io mi aspetto tra breve l'attacco ai fanulloni di nuovo del pubblico impiego basta vedere cosa stanno lavorando i giornalisti che sono poi vicini a questo che costruiscono le campagne l'attacco ai fanulloni dei servizi pubblici l'attacco ai fanulloni qua e là per spiegare che basta con i servizi pubblici siccome ci sono i fanulloni siamo sempre lì allora basta con i servizi pubblici il resto è quello che ha fatto come sindaco a Firenze tutto questo troveremo nel tuo prossimo libro no nel mio prossimo libro c'è solo un grido di dolore cioè sul fatto che da un lato dico che nel titolo i lavoratori ormai sono ridotti come le farfalle sono come le farfalle faccio questo esempio terribile cioè il lavoratore come fa la farfalla la farfalla è così la farfalla vive come bruco vive come pupa vive come bozzolo cioè c'è tante vite diciamo più o meno lunghe le più lunghe precarie poi quando diventa davvero quello che vorrebbe diventare cioè la farfalla cioè l'essere completo il lavoro fisso un lavoro che dà dignità ecco dura pochi giorni e poi muore ecco i lavoratori mi pare che il modello di Renzi di società di Renzi i lavoratori che fanno una lunghissima periodo di prova che non finisce più ed è peggio anche questo non capisco perché si possa aprire su questo il contratto a tutele crescenti è peggio del contratto a termine perché il contratto a termine vengo assunto per sei mesi in quei sei mesi non mi ho le tutele di tutti gli altri lavoratori poi ai sei mesi mi licenziano il contratto a tutele crescenti che già mi sembra il termine ridicolo vuol dire sprofondo dallo sprofondo in su è un contratto in cui io in ogni minuto posso essere licenziato in ogni istante quindi è un contratto che ha meno diritti del contratto a termine e tra l'altro non sostituisce neanche il contratto a termine ma tra un po' io sono convinto ci saranno lavoratori che sceglieranno il contratto a termine perché dà qualche diritto in più quindi è una è una gigantesca turlupinatura si dice è un contratto a tempo indeterminato in cui uno può essere licenziato in qualsiasi momento come dire ti garantisco la vita ma tu in qualsiasi momento puoi essere ucciso una farfalla è una farfalla sì è una farfalla c'è un imbroglio colossale in questo caso nel senso che quando arrivi a quello che dovrebbe essere la cosa normale queste farfalle come devono organizzarsi? ma io credo che onestamente bisogna partire da una constatazione che abbiamo subito una terribile sconfitta e che non si riparte se non si ammette che ci sia e se non si parte ovviamente per strade diverse per quello che credo poco alla mobilitazione della CGL e penso che sia insufficiente e inadeguata quella di tutti quelli che pure condividono queste cose ma che non hanno questa consapevolezza mi pare cioè ho l'impressione che tutti dicono siamo in una situazione drammatica e poi fanno quello che hanno sempre fatto se la situazione o non è vero che è drammatica allora ragione Renzi e quindi tutta una finzione oppure se è drammatica bisogna innovare rompere con la storia cioè noi siamo un paese che sta realizzando adesso ripeto il pensiero degli anni 80 nel libro ho cercato di ripercorrere la storia sindacale dagli anni 80 a oggi per cercare di dimostrare che tutte le cose che si dicono oggi o che si propongono oggi negli anni 80 sono state proposte ovviamente non sono riuscite a realizzarsi perché c'è stata una lunga resistenza ma adesso e questa è crollata e quindi il sindacato più forte d'Europa si prepara a subire la sconfitta più drammatica certo farà qualche manifestazione ma vedi se non la CGL non rompe con il regime sindacale costruito in questi ultimi 30 anni se la CGL non si rimette a fare le lotte dove può se la CGL insegue disperatamente una concertazione se la risposta della CGL è come ho sentito questa mattina ho provato a chiamare al centralino di Palazzo Chigi però non mi ha risposto nessuno cioè se la risposta della CGL non è andiamo al Palazzo Chigi e rompiamogli il centralino sulla testa non è una risposta adeguata va bene adesso approfondiremo in questo mese di lotta o comunque di mobilitazione e poi leggeremo nel libro di Giorgio che sta per uscire quelle che sono le indicazioni più precise per il domani intanto ti ringraziamo come sempre riflessioni che aiutano a capire e aiutano anche a costruire un percorso a a par ... ... ... Grazie per la visione!